Allora oggi abbiamo una zuppa di porro e anche un po' di Del Debbio sempre da Fiumicino, ci siamo beccati in aereo, quindi ragazzi buongiorno Paolo Del Debbio. Buongiorno a tutti voi. Allora quali sono i temi della giornata fondamentali? La cosa che oggi mi ha fatto più ridere sui giornali è la disfida del Gin Tonic, Paolo. Cioè a Torino succede la seguente cosa, l'Appendino va a vedersi la partita all'estero della Juventus. Nel frattempo a San Carlo succede un casino, a Piazza San Carlo muore una persona, arriva lì, non chiede scusa a nessuno e sapete che fa un decreto, una robetta legislativa di quelle robe lì che si fanno nel Comune, una delibera in cui dice che non si possono più prendere i Gin Tonic da sporto. Cosa succede? Che da quel momento in poi la Questura prende sul serio l'ordinanza dell'Appendino e si mette nei locali della Movida a vedere che non vengano utilizzate più le bottiglie di vetro per farsi il Gin Tonic. Così come è avvenuto a Piazza San Carlo. Il problema è che ieri è avvenuto che quelli dei centri sociali non ci stanno, cioè gli stessi che poi peraltro hanno votato l'Appendino. Oggi sui giornali c'è tutto il resoconto del fatto che tre poliziotti in borghese sono stati menati da quelli dei centri sociali e la polizia ha fatto l'irruzione all'interno della Movida. Allora la cosa favolosa è che c'è un cortocircuito incredibile, lei non c'era e succede un casino a Piazza San Carlo, divieto degli alcolici, poi dopo la polizia esegue il divieto e l'Appendino sapete che dice oggi? Dice beh è esagerato la polizia. Che dici Paolo? Ma dico quello che ho detto anche, cioè la questione lì è che questi signori qua cosa hanno fatto? C'era un posto dove non dovevano entrare gli alcolici in piazza, hanno lasciato che entrassero i venditori abusivi di alcolici. Ora lasciano il gin tonic, cioè il gin tonic no, cioè io la faccio così, ora la prossima partita è a Torino e mi porto sei bottiglie di whisky, entro con sei bottiglie, le bevo tutte, magari muoio, però muoio nella legge perché non ho bevuto il gin tonic. E bravo, 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 magari in whisky di plastica lo puoi mettere? Esattamente, schianto, apposta, a piazza del cazzo, perché bevo sei bottiglie di whisky da 50 CL Luna, CL non come una liberazione, non c'entra nulla, CL Luna e però sono nella legge perché non ho bevuto. Ma questi sindaci, Raggi e Appendino, oggi un altro tema delle grandi, ma questo è il punto, dicono che oggi mi sembra che sia la verità di Belpietro, diceva che nascondiamo sotto i casini della Raggi e dell'Appendino i casini molto più gravi di Lotti e compagnia cantante. È vero che c'è una roba mediatica che si preferisce lo scandalo di Roma e di Torino rispetto allo scandalo che si sostiene, Belpietro e altri molto più seri, di Lotti, della Consip, di quelle robe là? Ci sono tutte e due, non è che qui si fa come quando uno è lasciato da una donna, lascia una donna, chiodo, schiaccia chiodo, c'è stato un problema a Torino reale? Vogliamo andare al villaggio olimpico a Torino a parlare un attimo, che non ci si può entrare? Vogliamo parlare del Libere di Roma che sono state ordinanze, che sono state la maggior parte, come è stato scritto da tutti, e sul tema periferia non viene fatto assolutamente niente a Roma, vogliamo parlare di questo? Allora, siccome c'è un problema a Lotti e non c'è il problema di Appendino e... che modo di ragionare è? Che si fa di fiore in fiore? Si sceglie? Perché siccome c'è quello non si parla di quell'altro, si parli di tutte e due e si affrontino tutte e due, c'è un problema enorme sia a Torino che a Roma, così come c'è a Milano, uguale, perché tutti gli annunci sulle periferie di Milano, di cui tu sai io mi occupo e mi interessa molto il tema, sono annunci per ora, siamo a zero. Altra cosa di giornale di oggi, la commentiamo con Paolo Del Debbio, è venuto veramente proprio a puntino, perché io non so, sono un ignorante, ve lo dico, questi giovani vengono considerati ignoranti, millennials che non sanno nulla, tutte queste robe qua, ma gli hanno fatto fare un tema, caro Paolo Del Debbio, su Caproni. Io sono un caprone, non so chi sia Caproni, oggi mi sono divertito perché ho letto sul foglio il pezzo di Milani che prende tutti per i fondelli come sempre e il Langone sul giornale dice però è questo Caproni qua che hanno scelto, sono più capri i ministeriali che hanno scelto che Caproni e quelli che non lo conoscono. Io però devo confessare che non conosco né l'uni né negli altri, tu che sei roba seria, raccontami un po', sta prova di maturità su Caproni. No, io non sono una roba seria, è che Caproni è un grandissimo poeta del XX secolo, sconosciuto perché in Italia si arriva a manapena ad annunzio e dopo il resto è come non ci fosse, e siccome è di Livorno e quindi noi in Toscana, insomma io sono di Luca. Ah ma è roba tua quindi? Eh no, di Livorno, non di Luca, no, facciamo casino, di Livorno però è un grandissimo poeta. E il tema di oggi, la traccia di oggi del tema è interessante caro Nicola, per gente come noi che pensa che non... Telefonate private, che non dovrei vedere. No, sì, che pensa che non siamo ecologisti fondamentalisti perché il tema di oggi del grande Caproni dice ad esempio non uccidete il mare, la libellula e il vento, non soffocate il lamento del lamantino, il galangone, il pino eccetera. Cioè è una difesa della natura, ok? Ma non è una difesa ideologica, cioè cosa voglio dire? Non è che difende la natura a prescindere dall'industria eccetera, non si occupa di questo. Difende, non è che difende, dice godetevi la sanatura, provate il laganticcio, questo vento di cui si parla a Livorno, provate le starci dentro, quanto vi fa bene. Ma non dice state dentro lì e vaffanculo a tutta la civiltà industriale eccetera, non dice questo. Quindi va bene, perché ti dice state dentro il mare, godetelo, imparate a stare dentro la natura. Però non ti dice state dentro la natura e odiate l'industria. Questo è il modo, secondo me, giusto di pensare. Quindi bravo Caproni. Bene, grazie a Paolo. Altre due ultime cose. Beh, la cosa fantastica Italia Oggi ci racconta che Carraic, doveva occuparsi di servizi di sicurezza per Renzi, è riuscito a clonare ieri apposta l'iPhone di un suo collega del PD in 17 secondi. 17 secondi, gli hanno dato un messaggino e quell'iPhone è stato clonato. Incredibile. E la notizia di tutti i giornali, forse il giornale che l'affronta meglio, ovviamente per suo DNA il Sole 24 Ore, Banca Intesa ha fatto una proposta per salvare le banche venete a un euro. Si prende la parte buona e lascia quella cattiva. Ovvio. Perché se no, perché lo deve fare. Però qui c'è sempre il solito dilemma. Paolo, noi che siamo populisti, no? Così ci definiscono. Dicono. Dicono, dicono. Cioè il tema, banche venete hanno fatto un casino, hanno perso un sacco di soldi, hanno miliardi di crediti prestati anche male, i loro amministratori hanno rubato sicuramente quello che c'era da rubare, però adesso che facciamo? Banca Intesa certo non può spendere per comprarsi questa banca. Come si esce da questo dilemma? Oggi un pezzo di Graziani sul Sole 24 Ore dice Messina, che è l'amministratore delegato di Intesa, tra interesse personale e aiuto di sistema, interesse personale inteso come Intesa. Cosa ne pensi? Penso che bisognerebbe decidersi una volta per tutte che tipo di impostazione vogliamo dare. Siccome in Spagna è successo che il Banco Popolare andava male, uno ha telefonato, uno, non è che ha telefonato in tanti, ha telefonato uno e gli ha detto a quello del Santander. O voi avete tanti titoli del debito pubblico spagnolo, li volete mantenere questi titoli, gli ha detto, quell'altro gli ha detto, certo, sono tantissimi. Ecco allora domattina ha salvato il Banco Popolare, se no io quei titoli li vedo. Allora è giusto far così? Io penso che si possa discutere se è giusto o no, perché è una forma di statalismo, di dirigismo eccetera eccetera, però almeno è una posizione. In Italia non c'è, non è una posizione nell'altra, per cui a un certo punto, se siamo andati avanti dei mesi, non si deve intervenire, si deve intervenire, si interviene un po', ma di qui. E questo è il peggio del peggio? Sì, è come quello che chiedi, chiesero, scusa tua figlia, siccome ormai ha vent'anni, è ancora vergine, e lui gli disse, un po', mi risposta. Che vuol dire un po', o fai l'intervento in Stato o non lo fai, però devi deciderti, non puoi fare mezzo, te la do ma a un euro, no te la levo. Così ci ha fatto il casino del Monte dei Paschi di Siena. Così, non ci fa così, si decide una linea, vogliamo essere keynesiani, si interviene con lo Stato, siamo keynesiani, vogliamo essere liberisti, ma non un pezzo in pezzo, è un casino. Ultime due cose che vi segnalo, il Cavaliere è andato da Vespa ieri sera, non è venuto né da te né da me, è andato da Vespa, è chiaro? E' andato da Vespa, e noi siamo chiusi, così funziona, no? Il pezzo che a me divertiva oggi citare è quello di Luca Telese, mio vecchio compagno di squadra, che dice, zitti, zitti, è cambiata la maggioranza. Cioè Forza Italia vota con il PD e il Renzi e MDP, cioè, scusate non sapete chi sono, ve lo dico io, Bersani, D'Alema, Speranza, tutta quella gente là, Gotor, sta in minoranza. A me questa idea che due o tre giorni prima del ballottaggio si è cambiata la maggioranza e si è visto anche sul Voto Consip, so che sui giornali soltanto Telese lo scrive, ma mi sembra che sia una cosa che è nei fatti. Ultima cosa, qua soffissato, devi avere pazienza, padre Livio è stato sospeso dall'Ordio dei giornalisti per sei mesi, il direttore di Radio Maria per le sue critiche alla legge sulle unioni civili. Porca puttana! Scusa se ho detto una parolaccia. Padre Livio, come facci? Io voglio scrivere, pretendo scrivere quello che voglio, nei limiti ovviamente della correttezza e dell'insulto nei confronti degli altri, però, insomma, non penso che io debba essere sospeso, io devo essere sospeso dai miei lettori, io devo essere sospeso da coloro che vanno in edicolo, sentono la mia radio, non da un ordine giornalistico che sospende padre Livio per sei mesi, non la penso magari come lui, ma chi se ne frega, no? Ma che c'entra come la... Come la pensa chi se ne frega? Come la pensa uno non mi riguarda a me, cioè riguarda lui e riguarda coloro che ritengono di tributargli una certa dose... Sei mesi di sospensione? No, no, una follia. Ma lui aveva ragione Luigi Enaudi, cioè l'ordine dei giornalisti non ha senso. Non ha senso. Secondo me no. Paolo Del Debbio e Nicola Porro nella zuppa del 22 giugno, perché siamo... Cosa stiamo facendo in Roma? Dobbiamo andare a fare delle cose molto importanti a Publitalia che non possiamo... Eccola, là, è lì, è andata. Siete buoni, tagliate. Ciao, ciao, grazie a Paolo Del Debbio che si è prestato a questo gioco con noi. Ciao, ciao, ciao. Grazie a Paolo Del Debbio che si è prestato a questo gioco.